Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui sul mio canale e oggi voglio farvi, io vi voglio ringraziare per il cura dei due iscritti, sembranamente sono felice, veramente non ho mai saputo questo traguardo qua e io volevo darvi un'informazione, volevo dirvi una cosa che ho sempre voluto dirvi che il 17 novembre uscirà la seconda parte di Hunger Games e visto che voi vedete i miei amici di volte bene, io vi aspetto al The Space il 17 novembre al cinema per vedere con me Hunger Games spero che questo film vi piaccia perché è veramente una cosa epica perché Hunger Games è l'ordine che noi volevamo da tanto tempo e quindi, grazie a tutti voi iscritti, numero, cioè, tutti iscritti veramente, sono veramente tanti e quindi io vi aspetto sabato il 17 novembre al Cinema The Space di Beinasco e spero che qualcuno si veniva con me e io vi aspetto il 17 novembre al The Space e quindi, grazie a tutti i miei amici